Incentivare le forze del Sud Italia verso i principi e le pratiche dell'innovazione, dell'economia circolare e della sostenibilità. E proprio sulle soluzioni a questi indicatori si basa Circular South, il concorso per premiare il miglior progetto di economia circolare di giovani talenti e start-up del Sud, indetto da Conai insieme al neonato Solution Hub, dello European Institute of Innovation for Sustainability. Al progetto possono partecipare sia le start-up e le aziende orientate all'economia circolare sia ricercatori universitari. Le dieci innovazioni più promettenti saranno supportate da mentor e advisor in un percorso di sviluppo e perfezionamento che le porterà a presentarsi in un demo day il 22 aprile all'interno dell'Innovation for Sustainability Summit, appuntamento annuale in programma a Roma. Da 25 anni, afferma il presidente di Conai Luca Ruini, il consorzio incoraggia lo sviluppo di competenze interdisciplinari e sostiene i progetti territoriali nelle regioni del Mezzogiorno per promuovere un modello economico sempre più circolare. Siamo ottimisti e curiosi di scoprire le innovazioni sostenibili che le imprese del Sud presenteranno in occasione di questa nuova edizione di Circular South.